l'epilogo del dorso femminile dice Francesca Negrisolo vincitrice seconda la vincitrice della serie 2 Lucia Schiartezzoni e poi in terza posizione complessiva Elisa Enache con 36 e 53 intanto Cristiano Guarise Gemona Nuoto può ritirare il suo tesserino qui in postazione Valentina Massaro e Cristiano Guarise i loro tesserini in postazione Grazie 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 Grazie